Il vero amore continua a soffrire, mi sarà un incidente, il coma, il risveglio, la delusione, mi dispiace tanto. E poi l'inverosimile. Sei stato mandato dal demonio. Dead Zone, da lunedì a venerdì a mezzanotte e venti, su Fox. Allora, hai preso il vestito? Sì. E la bimba ha preso il raffreddore. Ma è normale. Gli esperti spiegano che nei bambini le difese naturali si stanno ancora formando e possono essere più vulnerabili. Fai come me, dalle Actimel. Aiuta a rinforzare le difese naturali e ad essere più resistenti. Ogni mattina, rinforza le tue difese naturali con Actimel. E da oggi, in ogni confezione, un gratta e vinci con fantastici premi. È giunto il momento di provare il potere di uno spazzolino elettrico oscillante rotante Oral-B. Il potere di 7.000 oscillazioni al minuto. Il potere di pulire ogni dente uno ad uno. Il potere di rimuovere il doppio della placca. Per una sensazione di pulizia, come dal dentista. Oral-B, la scelta dei dentisti. Lo sapevi che il primo gioco da tavolo è stato inventato in Egitto? Arriva una tempesta di giochi! Da McDonald's, quattro geniali giochi da tavolo tascabili. Nel tuo Happy Meal a solo 4 euro. Scegli di vivere tranquillo. Per la protezione della casa, c'è casa tua di Allianz. La nuova polizia semplice ed affidabile. L'unica con la formula salva tutto, che non ti nasconde nulla. Costa meno di quello che pensi. Chiedila agli agenti delle reti Allianz. Allianz. Soluzioni finanziarie dalla A alla Z. Ce l'hai? Ce l'ho? Ce l'hai? Sì, ce l'ho. Pocket Coffee. La carica del caffè e l'energia del cioccolato. Pocket Coffee. Carica ed energia sempre con te. Nei momenti decisivi, si vedono i grandi campioni. Obiettivi da raggiungere. Sogni da realizzare. Tutto ancora da decidere. Tutti i colori della passione per un'unica grande visione. La volata finale è solo su Sky Sport. Esistono angoli di paradiso regolati da un ritmo silenzioso. La natura. Scoprirne la magia è lo scopo di questo viaggio. Il giro del mondo in 80 giardini. Mercoledì alle 21.30 su Next HD. Che so, Friedman? Grazie. Grazie. Grazie.